buongiorno allora oggi andiamo a terminare i lavori della pompa di calore ci è voluto un po più di tempo del previsto perché perché in questo periodo piove sempre e quindi alcune cose sono molto difficili da fare mentre piove quindi abbiamo dovuto aspettare un po di tempo e passare i tubi tutte queste cose qui collegare la macchina esterna ci è voluto più del previsto quindi oggi andiamo a finire tutto il lavoro montiamo la macchina esterna facciamo la pulizia tutto quanto il resto colleghiamo e mettiamo in funzione quindi partiamo e andiamo in cantiere buongiorno amos buongiorno che stai facendo adesso andremo a collegare i cavi di termostati in modo da prolungarli per questi sono corti devono arrivare fino a la centralina del mondo interno della pompa di calore in cui gestirà il consenso termostati e alimentazione dei due circolatori e poi uno fa piano terra e uno il primo piano abbiamo fatto pure un quadretto qua giusto quello di controllo della caldaia elettrica che è questa qui che ha un interrottore tutto suo adesso finiamo il collegamento e poi facciamo il test allora adesso abbiamo collegato tutta la macchina esterna poi andiamo di sopra a finire gli ultimi collegamenti visto che adesso allora visto che adesso ha smesso di piovere abbiamo collegato la macchina esterna e ah ma sto sta facendo gli ultimi collegamenti qui poi andiamo a chiuderla e andiamo sopra a a terminare gli ultimi collegamenti se non possiamo entrare dentro casa grande Harry grazie 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 a tutti. 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 Prima di tutto ringraziamo i nostri partner di Tecnogas di Modena che ci hanno aiutato a montare questa pompa di valore. E... 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 niente. Chiudiamo tutto e... 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 Grazie mille.